Effettuiamo l'accesso alla nostra abitazione venendo dall'interno del paese. A questa casa si accede in due modi, essendo una casa esposta sul lato meridionale del paese. Si può accedere sia dalla parte interna, come stiamo facendo adesso, sia dalla parte esterna, più comodo per parcheggiare la macchina. Effettuiamo questo percorso che ci porta all'abitazione in via dell'archetto per permettere una visuale anche delle graziosi case circostanti e anche come vedremo adesso della bella vista di cui gode questo lato del paese. Questa è una graziosa abitazione a tezzo basso, qui ne seguono altre. Ecco, da qui vediamo un attimo lo scorcio che dalla casa si potrà godere ancora meglio. Questo è il mattonato. E questo è il viegolo dell'archetto, questa salita con pochi scalini. La casa è questa qui, qui di fronte, si accede lateralmente. È una casa recentemente completamente ristrutturata. Ecco qui l'adattoio dell'ingresso, il grazioso lume e il portone nuovo. Questo è l'ingresso della casa a cui siamo per accedere. Il portone, come anche il resto della casa, è stato completamente ristrutturato. Questo è un soggiorno con una cucina. In fondo qui c'è il cammino e poi uno dei tanti balconi che accedono a sud, da dove ci affaceremo a pieno superiore. A cui accediamo da questa scala, questa scala in ferro, che porta sulla zona giorno e notte con molte finestre. Questa è la prima, questo è un primo soggiorno con i piedi del tavolo. Qui si entra al bagno. Questa è una finestra che accede al vicolo di sotto. Qui c'è la doccia. E adesso proseguiamo. Andiamo nella camera da letto. Questa è la seconda finestra del soggiorno. Questa è la camera da letto, separata da un tramezzo dal soggiorno. È il letto, un armadio. E adesso accediamo a uno dei balconcini della casa, da cui si gode la vista della valle. e del paese. Effettuiamo l'accesso alla casa dal lato meridionale. Questo è il secondo accesso. È l'accesso più comodo dal punto di vista del parcheggio della macchina. E questa breve salitella, passando per quest'arco, ci condurrà al vicolo dell'archetto dove si trova l'immobile. Qui possiamo approfittare per vedere l'abitazione circostante, il grazioso mattonato. è lì dove si trova quella ringhiera. Accederemo, girando a destra, alla casa che si trova già al nostro fianco. Queste sono le abitazioni graziose. Ecco questi leggeri scalini. Questa è già l'edificio della casa. Completamente ristrutturata, come abbiamo detto. e questo è l'ingresso con il portone in legno nuovo.